La Chiesa è essenzialmente sacramento di comunione, quindi la deve fare vedere questa comunione e la comunione si realizza fondamentalmente mettendo insieme la bellezza di ciascuno di noi, cioè facendola entrare all'interno di un unico quadro e devo ringraziare da questo punto di vista le tante persone, i vescovi delle diocesi vicine, i preti che si sono succeduti in questi giorni, ma anche quelli che ci danno costantemente una mano durante tutto l'anno perché manifestano proprio la bellezza di questa comunione che è fatta proprio dalla diversità di ciascuno di noi. Ma la comunione non è fatta solo di preti e di suore, è fatta di tutti, la comunione si fa anche accogliendo le persone, quelle che hanno bisogno di essere accolte, la comunione è fatta quando si è in grado di essere accoglienti nei confronti di tutti e per questo ringrazio anche la presenza del sindaco di Andrea che rappresenta la nostra comunità, la nostra collettività e il santuario vuole essere sempre di più un centro di comunione, un centro di accoglienza per tutti, lo facciamo tutti i giorni, ci sono tante persone che si fermano la sera fino a notte tarda a mangiare sui tavolinetti qui nel santuario, nel parcheggio del santuario qui di fronte, abbiamo messo delle giostrine, stiamo realizzando, non è ancora finita questa opera che può diventare anche di utilità per l'intera collettività, chissà se questo era un sogno anche di Pare Civerra, un giorno vedremo arrivare anche le opere di urbanizzazione primaria, ma questo diciamo è un sogno grosso, mi ha detto Pare Civerra non ti preoccupare, stai tranquillo che prima o poi arriveranno, lui è morto chissà se io riuscirò a vederle.